Un progetto importante è quello che è partito da lontano, non si è fermato durante il Covid e ha intercettato la vita di parrocchie nelle periferie, quattro per la precisione, ma ora si sta anche allargando oltre il territorio metropolitano. È promettente, secondo lei, questa possibilità di camminare insieme intercettando il territorio, andando a cercare quelli che non vengono magari in oratorio, quelli che non frequentano la parrocchia? È interessante, è promettente, diciamo come un detonatore, come un principio la parrocchia ha nel suo DNA di intercettare il territorio e di essere la casa tra le case. Questo progetto ha inteso dare un supporto a delle parrocchie che non hanno sufficienti risorse e non hanno sufficiente competenza per aprirsi al territorio. Quindi un gruppo di educatori professionali, un progetto ben seguito dal punto di vista di una regia e di una riflessione, ha questo compito di attivare quelle risorse che devono prendersi cura di tutta la gente che risiede in un territorio. Il concetto stesso di parrocchia è proprio questo, che ci sia un luogo che è per tutti e quindi, come è stato detto anche stamattina, non che tutti siano dentro, ma che quelli che ci sono siano per tutti. La parola periferia non mi piace, che è connotata in un senso negativo e quindi forse non è neanche rispettoso della gente che vi abita, come se fossero persone o cittadini di serie B. Io sono più portato a immaginare che Milano sia una parrocchia fatti di quartieri, di quartieri in cui ci sono punti problematici e questo non c'entra che siano vicini al centro o lontani. E quindi preferisco parlare di quartieri, preferisco parlare di luoghi dove è necessario un impegno particolare, sia da parte delle istituzioni, sia da parte della chiesa, sia da parte delle associazioni, perché si concentrano problemi sociali, problemi di ordine pubblico, problemi di degrado delle abitazioni e quindi ci sono come dei punti malati che devono essere curati. La fondazione degli oratori milanesi non poteva che essere parte importante di questo progetto insieme a Caritas, oratori dopo scuola, integrazione, educazione, formazione. Qual è il merito maggiore di quello che si è già costruito con questo progetto e di quello che si farà? Sicuramente questo progetto ha introdotto in modo esplicito la domanda su come si possano ripensare gli spazi dell'oratorio, gli spazi educativi parrocchiali in una città come Milano che sta lavorando tantissimo, cambiando tantissimo i suoi spazi anche di socialità. Quindi questa è la grande domanda, c'è ancora spazio per l'oratorio e che tipo di spazio educativo l'oratorio può offrire in una città come Milano, sapendo che siamo in un momento dove c'è grande richiesta di spazi educativi e grande richiesta di oratorio. L'altra questione è l'esperienza oratoriana che ormai in una città come Milano quotidianamente deve fare i conti con questioni emergenti legati al fenomeno interculturale, al fenomeno interreligioso. Tutto questo richiede davvero un grande impegno di intelligenza e di interpretazione da parte della comunità parrocchiale e quindi il lavoro condiviso tra Fome e Caritas intende aiutare le comunità a ripensarsi in questo contesto anche culturale fortemente modificato ma anche affascinante. Via Quarti certamente una zona molto problematica. Voi avete messo un gazebo in mezzo alla strada che è proprio al centro. Per fare una parrocchia senza porte e stringere relazioni, che tipo di esperienza è stata? È stata un'esperienza molto bella per me innanzitutto, proprio perché il desiderio era quello di essere presenti lì in Via Quarti, in questo territorio, di far vedere che vogliamo essere lì come parrocchia, come segno di speranza e soprattutto per incontrare le persone, per vivere insieme, per stare lì insieme con loro. Perché la percezione di molti, di coloro che abitano in Via Quarti, è quella dell'abbandono, di essere in un luogo dove nessuno mai arriva, perché è una via a fondo chiuso, è un luogo malfamato, che porta con sé appunto una cattiva fama e quindi l'idea era proprio quello di dire vogliamo essere qui, vogliamo stare qui con voi. Il gazebo è nato così, non avendo uno spazio dove stare, non avendo uno spazio fisico, abbiamo detto mettiamo giù un gazebo e poi ci siamo accorti che questo rendeva l'idea di una chiesa senza porte, senza muri di contenimento, un luogo dove puoi entrare e uscire con facilità. Questo ha incontrato l'apprezzamento delle persone. Questa è la cosa sorprendente di Via Quarti che cercano la relazione, che cercano l'incontro con gli altri. La cosa bella di Via Quarti è che tu vedi i bambini giocare per la strada, quindi non fai fatica ad incontrarli e così anche gli adulti li incontri facilmente. Questo appunto ci è sembrato un modo per dire siamo qui, vogliamo vivere insieme con voi. Progetto Sette Quarti che cos'è? Progetto Sette Quarti è un progetto strutturato su quattro... Progetto Sette Quarti cos'è? È un progetto che stiamo cercando di lavorare insieme con le altre realtà che operano in quartiere e con il sostegno fondamentale di Caritas Ambrosiana che cerca di venire incontro ad alcuni bisogni del quartiere. Un bisogno di salute, un bisogno educativo innanzitutto, un bisogno di una formazione al lavoro, di una ricerca del lavoro e anche un bisogno più complessivo di cultura, di formazione anche per gli adulti. L'idea è quella di elaborare un progetto che possa liberare dall'inseguimento dei bandi perché queste realtà che operano nel suo quartiere vivono tutte di bandi e quindi gli operatori durano per qualche anno per il progetto che magari ha una durata, in generale la durata massima sono tre anni e poi vanno via, il progetto finisce e tutta la fatica che si è fatta per costruire delle relazioni che richiedono tempo per essere costruite viene vanificata. L'idea è quella di immaginare un progetto che abbia una durata decennale e poi andare alla ricerca di grandi finanziatori che siano in grado di sostenere questo progetto. Siamo partiti per intanto con l'ambulatorio mobile per venire incontro alla necessità di salute proprio perché una gran parte degli abitanti di via Quarti non è regolare, sono abusivi e quindi non hanno residenza e quindi non hanno neanche assistenza sanitaria. Una volta alla settimana l'ambulatorio mobile si piazza in mezzo alla strada lì abbiamo chiesto tutte le autorizzazioni logicamente e assicura questo presidio sanitario lì in quartiera. Cosa significa una parrocchia estroversa? Chiesa in uscita, d'accordo, ma anche periferia in entrata. Sì, significa che non è più possibile nei tempi di oggi, e ce lo rimanda tanto anche Papa Francesco, sentirsi abitanti di una parrocchia e non di un territorio. Quindi ecco, le soglie della parrocchia, proprio le porte fisiche dell'oratorio come un luogo dove la periferia possa entrare e possa accogliere una proposta, possa cambiare, ma anche una chiesa che sappia uscire nel territorio e che si sappia lasciare interpellare e provocare. Che tipo di esperienza è stata questa sua? Lei ha parlato di gioia. Sì, una grande gioia, sicuramente senza il progetto parrocchia e periferia io sarei un'educatrice diversa, sarei un'educatrice peggiore. È veramente una ricchezza inimmaginabile dal punto di vista professionale, ma anche umano. Ecco, tre anni in cui il lavoro è diventato veramente non soltanto professione, ma anche professione di fede, è diventata vita. Ci siamo sentiti anche con i miei colleghi proprio pionieri di un qualcosa più grande di noi e di questo siamo molto grati. Una cosa che lei è rimasta nel cuore? Un momento, un'iniziativa, un successo o un insuccesso? In generale, le relazioni con le persone, nel senso che si è parlato anche di equilibri, l'operatore del progetto parrocchia e periferia sicuramente deve mantenere una giusta distanza per poter proprio osservare qual è il prossimo passo da compiere, però l'appartenenza che tutte le coppie di operatori hanno proprio provato per le proprie realtà, credo che sia stato qualcosa in più che ci ha permesso di andare oltre. Che tipo di esperienza è stata e quali sono le prospettive cardine che avete ritrovato in tutte le progettualità messe in campo? Sì, allora, sono progetti che è chiaramente diversi tra di loro perché ogni contesto poi ha sollecitato e stimolato azioni diverse, però abbiamo ritrovato dei fili rossi di continuità. Il primo era quell'idea di coltivare nelle varie parrocchie delle pratiche pastorali estroverse, cioè capaci veramente di rivolgersi al fuori, ma un fuori inteso come tutte le persone che vivono quella comunità. E quindi una chiesa permeabile, una chiesa prossima, capace di guardare appunto questa dimensione di uscita. L'idea importante è di attivare dei processi generativi e partecipativi, quindi delle pratiche capaci di coinvolgere le persone, ma coinvolgere il punto di vista delle persone, quindi non solo per fare, ma anche proprio per portare il loro contributo nella costruzione di un'idea di chiesa. E l'ultima, quello di qualificare l'educazione. Oggi è importantissimo negli oratori e nelle parrocchie immaginare che per rispondere ai bisogni dei ragazzi sia necessario avere delle presenze capaci, competenti, che leggono i bisogni e che accompagnano nei diversi percorsi di crescita.